Cari amici bentornati a Codice Blu. In un momento particolarmente difficile, non sto qui all'incarne i motivi, per tutti quanti noi, la pesca sportiva si unisce creando una sinergia in cui gli attori principali sono la FIPSAS, la FIOPS e International Exhibition Group, IEG, ovvero la Fiera di Vicenza. Da questa sinergia nasce la prospettiva futura e non solo immediata della nostra pesca sportiva. Di questo parleremo oggi, ma prima di adentrarci nella nostra puntata, un saluto a Cassiopeia, la nostra padrona di casa. Ciao Cassiopeia. Ciao Roberto, grazie. Bentrovati ai nostri amici telespettatori. Siamo qui a questa nuova puntata di Codice Blu per l'appunto dedicata al Pescare Show. Vediamo insieme, prima di presentare i nostri ospiti, il video introduttivo. La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacue, forte dell'accordo di partnership siglato con IEG, Italian Exhibition Group, torna dal 18 al 20 di novembre nel quartiere fieristico di Vicenza con l'obiettivo condiviso di rafforzare a livello internazionale il Pescare Show. Questo evento segna un momento importante per ritrovarsi tutti insieme, federazione, pescatori, aziende e negozi, all'insegna della nostra grande passione, la pesca sportiva. La Fipsas sarà lieta di accogliere tutti i visitatori all'interno di un'ampia area situata al centro della Hall 7 e si presenta a questo appuntamento con tante iniziative e un fitto programma di eventi. Come succede da diversi anni, nel Pescare Show si terrà la conferenza stampa di presentazione degli eventi internazionali di pesca sportiva organizzati in Italia, tanti i mondiali assegnati alla nostra federazione nel 2023. Il Pescare Show ha rappresentato da sempre per la Fipsas anche un momento di riflessione e di confronto sulla situazione attuale. In virtù dell'accordo siglato con IEG, che vede la federazione più coinvolta dal punto di vista organizzativo, si è deciso di inserire in agenda dei convegni per discutere sulle problematiche che in questo momento impattano pesantemente sul mondo della pesca sportiva. Tante anche le attività previste in fiera per i più piccoli, coinvolgendo i bambini di alcune scuole della provincia di Vicenza e tutti i bambini e ragazzi presenti in fiera. Sarà possibile partecipare a dei laboratori manuali che insegneranno i segreti sulle montature e sulla costruzione di mosche ed esche artificiali. Per la prima volta in fiera, l'affascinante mondo della bioluminescenza, esperimenti bioluminosi per piccoli scienziati curiosi. Sessioni di tiro al bersaglio con ami magnetici, catture in piscina gonfiabile di pesci artificiali, gare indoor di pesca con canna Robasien. Grandi e piccoli potranno inoltre provare ad utilizzare il simulatore di pesca, attraverso il quale potranno essere effettuate tantissime catture. Presso l'area istituzionale sarà inoltre possibile acquistare l'abbigliamento federale firmato Stegip, ritirare piccoli gadget e materiale promozionale, oltre che tesserarsi e risolvere eventuali problematiche inerenti alla registrazione al registro CONI. La Fipsas vi aspetta numerosi nell'edizione più ricca di sempre dell'evento fieristico più importante della pesca sportiva. Siamo pronti quindi a discutere del Pescare Show insieme ai nostri ospiti. Massimo Rossi, consigliere federale responsabile delle comunicazioni Fipsas, Francesco Ruscelli, direttore FIOPS e collaboratore Fipsas. In collegamento con noi c'è Valentina Fioramonti, group exhibition manager wellness e sport presso EIEG. Ben trovati a tutti quanti. Grazie. Cominciamo. Io comincerei, ghiotto occasione, per parlare con Massimo Rossi, comunicazione federale, perché è chiaro che questi ultimi anni hanno rappresentato un punto di partenza, forse, anche nel campo della comunicazione. Abbiamo avuto il Covid, abbiamo avuto delle situazioni difficili, estremamente difficili, in cui un'attività del tempo libero, come tra l'altro la pesca, ha subito delle compressioni. Eppure la Fipsas ha costruito un nuovo modello di comunicazione. Ce ne vuoi parlare? Assolutamente, mi piace, anzi, che partiamo da questo concetto, perché effettivamente in questi ultimi anni, causa Covid, quella che l'immagine e la comunicazione della federazione è cambiata decisamente. Voglio ricordare, su tutti, chi ci segue in tv, soprattutto su questi canali, di solito ci conosce, perché fino al 2018-2019 facevamo il TG Fipsas, cosa che non facciamo più, ma non perché non ci piacesse, perché Covid e il tempo ti dicono che con la notizia devi essere più sul pezzo. Noi col TG Fipsas, purtroppo, eravamo, soprattutto con le cose che erano registrate agli inizi, arrivavamo, non voglio dire, un mese dopo, perché si registrava ogni 15-20 giorni, però si era sempre in ritardo. E visto i social che ci sono adesso, la comunicazione che c'è adesso, tutte quelle che erano le classifiche che noi andavamo a annunciare, con grossa difficoltà, perché posso anche dire che recuperare tutti i dati delle tante attività che la federazione fa, non è mai stata cosa facile. E vi posso dire che l'ufficio, appunto, della pesca di superficie, in prima battuta, ma anche l'ufficio con cui collaboro io, perché dicono che sono il responsabile, ma io dipendo da loro, cioè sono loro che mi fanno lavorare, e sono tre ragazzi, Emanuele, Cati e Emanuele, che sono veramente in gamba, quindi ho citato loro tre, ma citerei tutta la federazione, perché io tutte le porte che vado a bussare in federazione aprono e collaborano, quindi non posso che parlarne bene e parlare bene di tutti. Ma d'altronde una grande famiglia, secondo me, deve essere così, altrimenti non porta risultati. Comunque torniamo a bomba. E quindi voglio dire, la comunicazione è cambiata di molto, perché abbiamo cominciato a promuovere quelle che sono le cose importanti della federazione. Noi abbiamo acque convenzionate in tutta Italia, e ne abbiamo veramente tante. E quindi abbiamo cominciato, attraverso appunto gli stessi canali che prima trasmettevano i TG Fipsers, a cominciare a presentare quelle che sono le nostre acque, in ambito Covid, nel momento del Covid, grazie a FIOPS, a Francesco, e al grande lavoro che ha fatto lui insieme al Presidente Matteoli, l'ho già detto tante volte, ma non stanco di ripetermi, siamo stati a casa dei tanti pescatori che quotidianamente ci chiedevano notizie su quello che erano le problematiche del poter andare a pescare le zone gialle, quelle rosse, quelle verdi, quelle blu, e sapere se si poteva uscire di casa o no con una canna del pesco in mano. E Francesco e Claudio in questo veramente hanno dato delle risposte a tempo, quindi andando a soddisfare sicuramente quello che erano le esigenze dei pescatori. Poi lo sappiamo tutti, accontentare tutti è impossibile, però penso che in un momento così difficile, perché il Covid è stata una mazzata per tutti, non ce l'aspettavamo, e quindi in un momento così difficile riuscire a dare delle risposte importanti e sicure, perché un conto è, ho sentito dire, un conto è portare dei documenti, beh insomma sicuramente abbiamo fatto un grosso servizio per quelli che sono i nostri pescatori. Poi mi dovete perdonare, io sono logoroico e mi dilungo, però sempre in questo periodo ci siamo inventati per vedere di uscire da quello che è l'ambito solito della pesca sportiva, della federazione, e quindi dal 2021 e 2022 abbiamo comprato, perché non siamo andati sulla Gazzetta dello Sport come ospiti, ma abbiamo comprato pagine sulla Gazzetta dello Sport per poter raccontare gli eventi più importanti che soprattutto in questo 2022 sono stati fatti qui in Italia. E anche su questi eventi devo ringraziare Italia Fischi in TV che ci ha seguito per questi che sono questi eventi così importanti, perché siamo riusciti ad andare, non dico in diretta perché con la pesca non avrebbe senso onestamente, la pesca in diretta a meno che non sia quella pesca che si fa in mare che è bella da vedere, ma una gara di pesca bella da vedere è l'ultima cosa che si può dire. Però con Italia Fischi in TV siamo riusciti a far sì che i risultati delle manifestazioni più importanti che abbiamo organizzato qui nel nostro paese siano andate praticamente subito nel giro di una decina di giorni, quindi una settimana, forse dieci giorni, ho anche esagerato. Quindi abbiamo cambiato tanto quella che era la storia della federazione in ambito comunicativo. Poi avrei altre mille cose da raccontarvi, ma adesso mi fermo e aspetto che mi chiedi qualcos'altro tu. Certo, molto volentieri. Sicuramente, intanto grazie, grazie perché sia stato estremamente chiaro, sicuramente il momento fioristico storicamente per la pesca italiana è un momento vitale. È il momento in cui finalmente ci si incontra, è il momento in cui si saggia il polso della situazione e si fanno piani, progetti e investimenti anche. E soprattutto si ha l'incontro diretto con il vero fuoco, la vera brace della pesca sportiva che sono gli appassionati. Ecco, Valentina, la Fiera di Vicenza, ancora una volta, allunga la sua mano piacevolmente, chiaramente, alla pesca sportiva. Come è strutturata quest'anno la fiera? Che progettualità c'è? Perché il servizio è stato chiaro, ma vogliamo sentirlo dalle tue parole. Sì, e mi fa anche molto piacere avere la possibilità di parlarne. Allora, Pescare Show è la manifestazione di Italian Exhibition Group che si tiene a Vicenza ogni anno ed è dedicato proprio al mondo della pesca e della nautica da di corto. Come ogni anno, anche quest'anno abbiamo lavorato per cercare di costruire un evento intorno a quello che per noi è l'elemento più importante, ossia il visitatore, che altro non è che l'appassionato di pesca. Quindi quello che noi vogliamo fare è proprio creare una serie di eventi, attività e questo grazie anche al coinvolgimento di partner importanti come Fipsas per far sì che la fiera diventi un momento di incontro, un incontro per scambiare idee, per incontrare i propri idoli, gli influencer e perché no anche acquistare della nuova attrezzatura. Quindi il format della fiera è molto simile a quello degli altri anni perché avremo ovviamente grande spazio espositivo, soprattutto con i top brand della nautica ma anche della pesca, soprattutto, ma anche dell'elettronica e della motoristica che compongono un po' il nostro universo, l'universo della nostra manifestazione. Avremo poi l'area dove tutti i visitatori potranno acquistare, quindi l'area shopping dove tutte le attrezzature e i nuovi prodotti dei top brand della pesca verranno appunto resi disponibili al pubblico e avremo poi tantissime aree di engagement quindi dove inviteremo proprio il pubblico a provare o a mettersi alla prova con la loro passione. Prima di tutto le nostre casting pool, quindi le piscine, le zone appunto si possono provare i prodotti grazie anche all'aiuto di esperti e di appassionati o di influencer. Parlo per esempio anche della nostra social media, quindi la nostra area dove tutti i visitatori troveranno proprio i brand ambassador dei maggiori brand di pesca ma anche un po' i beniamini dei social media che in questi anni ovviamente sono cresciuti tantissimo in popolarità. Gli influencer e tutti gli ospiti, i talent che noi ospiteremo nella social media coinvolgeranno poi il pubblico anche in dimostrazioni dal vivo nella zona dell'acqua dermo, quindi la nostra spettacolare piscina dove sarà possibile proprio vedere appunto i brand ambassador in azione. Avremo poi diverse aree quest'anno anche nuove. La Fipsas, come ha anticipato Massimo, avrà uno spazio molto importante con tante attività, ma avremo anche un'area dedicata per esempio al turismo di pesca l'area delle fishing trips, quindi dove tutti gli appassionati e i visitatori potranno trovare i tour operator, le agenzie o i lodge esclusivamente dedicati proprio al pubblico di turisti pescatori, quindi con le migliori e le più accattivanti proposte proprio di viaggio e di weekend all'insegna della pesca. Moltissimo altro, ogni anno noi ospitiamo una bellissima area dedicata ai bacini di pesca, quindi ai luoghi dove è più diretto il contatto proprio tra la natura e i pescatori, quindi anche quest'anno avremo moltissimi bacini di pesca che verranno a presentare le proprie attività. Avremo un'area dedicata come sempre alla pesca a mosca, quindi la nostra fly time experience, un'area dove si potranno vedere i costruttori di esche lavorare e creare le loro piccole creazioni appunto artigianali dal vivo. Tante attività, ovviamente questo è l'inizio di un racconto che faremo e stiamo facendo anche attraverso il nostro sito, attraverso i social media, quindi io invito veramente tutti gli appassionati a seguire quello che stiamo preparando e quello che stiamo comunicando appunto per la fiera, che ricordo è dal 18 al 20 novembre alla fiera di Vicenza. Massimo, un forte accordo di partnership insieme a IEG, l'obiettivo condiviso è di rafforzare a livello internazionale per Scare Show. Il punto di vista della federazione qual è? Ovviamente è un obiettivo importante che ci siamo prefissi al momento che abbiamo firmato Claudio da una parte, Corrado Peraboni dall'altra, per IEG, questo tipo di accordo, insieme anche ovviamente con la collaborazione di Fios, però direttamente la federazione. Perché bisognerebbe che si tornasse a quello che erano le fiere? Perché fammi dire, io mi associo tanto a Valentina e a quello che stava dicendo Valentina e forse rispondo anche alla domanda che mi hai fatto tu, dovremmo riuscire a riportare, sì i garisti, ma dovremmo riuscire a portare i pescatori alle fiere. Perché partiamo da questo presupposto, la federazione, prima ancora che entrassi io, io sono sei anni che sono in federazione a livello di Roma, che collaborano con la federazione sono 40 anni, però dalla base, che già siamo, sono romano tra virgolette, sono sei anni. E già da quando sono entrato io la federazione aveva battezzato tre fiere in Italia a cui si partecipa tutti gli anni senza batter ciglio, che sono il Carpitali, l'Eudi, l'Eudi è quella dedicata alla subacqua in generale, e il Pescare Show. Queste sono le fiere a cui la federazione ha deciso di non mancare. Ovviamente noi siamo una federazione di pescatori, quindi questa per noi è la fiera più importante, perché rappresenta, non voglio entrare nelle percentuali perché onestamente non le conosco, però penso un 75-80% dei tesserati della federazione sono gente con la canna in mano o qualcosa di similare. E quindi dare la possibilità, riprovare a dare la possibilità a tutti quelli che sono appassionati di pesca come noi, perché se siamo qui a parlarne è perché c'è una passione di fondo, non è perché ci piace andare in televisione, ma perché abbiamo di fondo un argomento che vorremmo che tutto il mondo condividesse con noi, e quindi voglio dire, con le fiere questo si va a fare. Dare la possibilità a quelli che sono i pescatori di incontrare la federazione, perché la federazione è quella, come dicevo prima, che ti può dare la possibilità di andare a parlare con i ministeri, con le province, con i comuni, con le regioni. C'è quella che può aprirti, se ci vai da solo non ti ascoltano, se ci andiamo noi come federazione che rappresentiamo un certo numero di pescatori abbiamo un senso e queste fiere qui dovrebbero tornare ad essere questa fiera, perché questa, ribadisco, è la mia fiera, perché è la fiera della pesca. Io poi sono uomo di federazione, quindi anche l'Eudi, anche il Carpitali, però io vengo dalla pesca al colpo, quindi questa è la mia fiera e di conseguenza avrei piacere che in questa fiera non ci fossero 15.000 spettatori, ma ce ne fossero 40.000 come minimo, perché vuol dire che io, Valentina, noi tutti insieme abbiamo raggiunto quell'obiettivo, che è per quello che siamo qui oggi a parlarne, a promuoverlo e a far sì che questa cosa possa provare ad andare avanti. Abbiamo tutta una serie di cose che ci stai tenendo contro, siamo partiti col Covid, poi sembrava finissimo, adesso c'è la guerra in Ucraina, abbiamo il problema dei pescatori che non hanno soldi da spendere, perché c'è la crisi economica che c'è in giro per il mondo, noi come mondo della pesca purtroppo lo stiamo vivendo direttamente, io parlavo con un po' di capitani di industrie relative alla pesca in questi ultimi giorni e tutti mi dicono, lo dico brutalmente, che quando tirano il cassetto manca tanto insomma, quindi mi associo, ribadisco ancora quello che ha detto Valentina, ribadiamo il concetto, troviamoci, rimettiamoci insieme, proviamo a lavorare insieme, perché la pesca è sicuramente una bella roba, altrimenti ribadisco non saremmo qui. Bisogna che riusciamo a far sì che torni a avere i numeri che avevo una volta, adesso purtroppo per motivi che escono da quelle che sono le nostre competenze purtroppo non riusciamo a farlo, vediamo di dare una mano attraverso i ministeri per far sì che certe cose si possano fare e che le filiere possano tornare ad avere dei numeri importanti. Questo è. Esattamente, ma quando io nell'introduzione parlavo di sinergia tra tre attori importantissimi, la federazione, International Exhibition Group e la FIOPS parlavo proprio della possibilità di presentarci alle autorità, alle amministrazioni con una voce unisone, forte, chiara, in rappresentanza di noi appassionati. Però colgo l'occasione, visto che si è parlato di spazi espositivi. Una cosa che mi ha veramente colpito l'anno scorso, mi ha fatto veramente tanto piacere e ho sorriso molto, era vedere gli spazi dedicati nello stand della federazione ai ragazzini, ai bambini. E quest'anno sarà la stessa cosa, perché sarà una cosa straordinaria. No, penso che riusciremo a fare di più. Riusciremo a fare di più perché, l'anticipava Valentina prima, riusciremo a far vedere anche, ci stiamo impegnando Valentina in prima persona con l'ufficio di immagine e comunicazione per trovare la struttura per poter soddisfare Maria Teresa Costanzo per il progetto della bioluminescenza. Che è una cosa, Maria Teresa è preparatissima. La cosa è bellissima da vedere, dobbiamo riuscire a farla vedere però e farla raccontare Maria Teresa. E non sarà solo quello, avremo ancora la pesca col Magnete, avremo ancora la pesca con la Rubasien. E guarda, faccio un passo indietro e un passo avanti. Col fatto che abbiamo collaborato con la Gazzetta dello Sport in questi due anni, mi sono fatto invitare, perché quando vedo che sono delle porte da aprire io spingo, se poi me le aprono vado, al Festival dello Sport di Trento. Che dire che è una cosa stupenda è fargli un torto, perché è sicuramente di più. Infatti ho detto che se non mi invitano anche il prossimo anno gli faccio del male fisico, perché ci voglio essere, ma voglio che ci siamo di più come federazione anche, perché veramente c'era, Francesco era con me e quindi ha partecipato a questa giornata, c'era tutto lo sport a livello nazionale rappresentato ai massimi livelli. Penso a Jacobs, che tutti conosciamo insomma, 100 metri, staffetta piuttosto che, la Pellegrini, ma poi dimentico tutti gli altri, quindi non le dico più, mi fermo lì. E a Trento, in quello spazio che ci stava dedicato di fronte alla stazione ferroviaria, siamo riusciti a portare in quei tre giorni oltre mille ragazzini, perché in accordo con le scuole è così, e questa è una cosa che non penso e non pretendo che mille ragazzini poi vadano a pescare. Però intanto gli abbiamo fatto capire che è una cosa positiva, che ti porta in mezzo alla natura, che non fai del male a nessuno perché noi i pesci li rilasciamo, addirittura li facciamo pescare, che i pesci non ci sono neanche, quindi meno male di così è impossibile. Di conseguenza penso che sì, faremo anche di più quest'anno, sicuramente. La fiera è anche un momento, oltre al momento ludico, un momento degli appassionati, è anche una fiera di approfondimento. Quindi di convegni, quindi di incontri, l'anno scorso ricordo ebbi opportunità di moderarne uno, ma ce ne furono diversi, piuttosto importanti direi perché si parlò della problematica gigantesca della lottonia, si parlò di bracconaggio, si parlò di leggi sul piatto della bilancia, ahimè, Francesco Ruscelli, FIOPS, quest'anno in che direzione si va? Quest'anno con il Presidente Matteoli abbiamo valutato l'opportunità di promuovere delle iniziative in fiera che partissero dal contesto politico nel quale siamo in questo momento, ovvero quello della fine di una legislatura e dell'inizio di un'altra. Quindi senza stare troppo a piangere su quello che avrebbe potuto essere e non è stato, mi riferisco al fatto che alcuni importantissimi provvedimenti di legge, come il disegno di legge Bossi sul bracconaggio, che ha mancato l'obiettivo dell'approvazione definitiva nella seconda commissione alla Camera per diventare legge e quindi dare una risposta a quella che è una problematica che come sappiamo è sentitissima dai pescatori ma anche dalle società e in generale dai cittadini, ovvero quella della necessità di contrasto al bracconaggio con un irrigidimento delle pene e anche una riorganizzazione degli strumenti operativi in materia. Abbiamo ritenuto di concentrare grande attenzione a due macro-questioni che vedranno nuovamente la federazione e tutti noi impegnati in un processo di tentativo di cambiamento normativo. Da un lato l'annosa questione della regolamentazione della pesca nelle acque interne che ci è venuto a noia di ricordare ai pescatori che purtroppo è come tutti sanno regolamentato da una legge che è un regio decreto dei primi anni 30, quindi inadeguato a far fronte alle esigenze che il sistema della pesca sportiva nelle acque interne ha oggi e dall'altro il tema della pesca in mare, anche questo iniziato nella scorsa legislatura con un importantissimo provvedimento di legge, un disegno di legge che è rimasto però arenato nella discussione nelle commissioni parlamentari. Quindi le esigenze che il nostro settore aveva 3-4 anni fa sono identiche oggi e dobbiamo ripartire con nuovi interlocutori, un nuovo governo delle nuove commissioni parlamentari e anche una nuova composizione parlamentare nell'affrontare le nostre battaglie cercando di portarle avanti. Quindi ci saranno un paio di iniziative sicuramente dedicate a rifare il punto su queste due macro questioni con tutte le sue declinazioni. È chiaro che in materia di acque interne ci sono alcune sotto questioni altrettanto centrali, il tema del braconaggio ittico che ricordava Roberto Ripamonti, il tema dell'immissione all'Octony Autoptonic che è una questione altrettanto attuale su cui c'è una commissione che sta lavorando e dovremo valutare anche quelli che sono gli aggiornamenti in materia da poter produrre alla conoscenza dei pescatori e degli appassionati, cosa che peraltro facciamo puntualmente con la comunicazione a cui faceva richiamo Massimo Rossi. E poi il tema della materia della pesca, della raccomandazione della pesca sportiva in mare che porta con sé tutte le sotto questioni macro che conosciamo dalla questione della pesca nei porti dove ci sono importanti novità che si stanno materializzando in alcune regioni perché la Toscana è arrivata alla fine del percorso lo deve solamente pubblicizzare mentre c'è un'interessante presa di posizione della regione Abruzzo che proprio nelle settimane scorse il vicepresidente si è reso disponibile a lavorare per arrivare a un percorso di regolamentazione della pesca nei porti e con esso anche tante altre regioni. Oppure le questioni legate alle misure minime, alle quote tonno, alla posa delle reti illegali sotto costa. Insomma, le tante questioni di cui continuamente parliamo e sulle quali siamo continuamente sollecitate per arrivare e concludo, fare un po' il punto della situazione e lanciare anche degli appuntamenti che potrebbero essere, nelle nostre idee, una sorta di doppi stati generali della pesca sportiva nelle acque interne e della pesca sportiva in mare da sviluppare poi nei prossimi mesi anche per produrre degli aggiornamenti ai testi dei disegni di legge che nel frattempo si sono resi necessari per il cambiamento del contesto anche nel quale andiamo a operare. Quindi ora nei prossimi giorni divulgheremo anche gli ospiti di queste iniziative e anche i giorni nei quali saranno previste, ma comunque tra venerdì, il sabato e la domenica 18, 19 e 20 di novembre, i tre giorni in cui si svolge la fiera. Perfetto, grazie. Poi torneremo sullo stato dei vari disegni di legge perché ho delle domande da fare. Abbiamo un video? Sì, abbiamo una brevissima pillola, è un'intervista che ci ha rilasciato Pera Boni, quindi la guardiamo insieme. Corrado, Italian Exhibition Group è uno dei principali poli fieristici a livello europeo che organizza peraltro la Fiera Nazionale della Pesca, Pescare Show. Il 2021 è stato l'anno della ripartenza con una data spostata a novembre, nonostante le difficoltà del Covid che ancora erano presenti e si preannuncia poi anche un'edizione 2022 che riconferma la collaborazione con FIPSAS a livello nazionale. Facciamo un bilancio, insomma, 2021-2022 dell'andamento del sistema fieristico e in particolare del settore della pesca. Francesco, il settore della pesca ha seguito tutti gli altri settori che hanno delle fiere di riferimento. Due anni terribili, una tentativa di ripartenza nel 2021 con ovviamente mille difficoltà, con l'incertezza fino all'ultimo, col timore che le fiere chiudessero, no? E quindi anche le aziende avevano molti dubbi nel partecipare e quindi tutti abbiamo un po' sofferto. Il 2022 ci aspettiamo sia finalmente come sta succedendo per tutte le altre fiere, l'anno della ripartenza vera e propria a livelli del 2019. Tra l'altro noi proprio aspettiamo gli amici che ci sono stati vicini l'anno scorso perché, ricordo, chi è venuto l'anno scorso in fiera, nonostante tutte le difficoltà che avevamo, avrà il biglietto gratuito per l'edizione 2022. E questa è una bella opportunità. Sì, diciamo che ci siamo sentiti in questo dovere di riconoscenza verso quegli amici pescatori che ci sono stati vicini, nonostante non fosse un'edizione, diciamo così, normale. E quest'anno sarà confermata questa collaborazione strategica che abbiamo avviato in questi periodi difficili con Fipsas e quindi a fianco alla parte commerciale, alla parte dimostrativa, avremo i contenuti che chi meglio di Fipsas può darci. Che però per ora non saranno anticipati perché sono in fase di elaborazione, ma con tantissime novità anche. Sì, sicuramente sarà una novità dimensionale, nel senso che aspettiamo tutti quelli che non hanno potuto venire in 2021 a esporre e ovviamente anche tutti gli amici che festeggeranno con noi un ritorno alla normalità facendo tutti gli scongiuri del caso. Allora, appuntamento per tutti gli amici pescatori è dal 18 al 20 di novembre 2022 al Polo Fioristico di Vicenza per l'edizione di Pescare Show. Valentina, come vive International Exhibition Group, questa partnership con la Federazione Italiana Pesca Sportiva? Siamo a che edizione? È la secondo anno, se non sbaglio, di partnership stretta, no? Quella dell'anno scorso. Poi la fiera ha un suo trascorso molto lungo. Come viene vista? Come viene vissuta? All'interno del sistema fioristico, perché chiaramente International Exhibition Group crea fiere e motivi di incontro di tutti i tipi. E la pesca è qualcosa di molto particolare, posso immaginare, perché io ascolto e guardo la televisione delle varie manifestazioni che si svolgono. Come si inquadra nell'ambito fioristico? Allora, sì, è sicuramente una partnership per noi importantissima e strategica. Infatti sono contenta di continuare a lavorare insieme a Fipsas. Uno dei compiti delle fiere internazionali in generale, soprattutto per noi di Italian Exhibition Group, è quello di supportare lo sviluppo e la crescita di determinati settori. Questo si può fare grazie proprio alla collaborazione dei partner, soprattutto dei player più autorevoli dei settori. In questo caso, noi con Fipsas, devo dire che abbiamo trovato una vera e propria comunione di intenti. Fipsas ha la capacità, si è costruita negli anni la capacità appunto di unire un'attenzione per le aziende che lavorano nella pesca, una voce istituzionale importantissima, forse unica in Italia, e anche poi la cura e l'attenzione verso appunto il pescatore, l'appassionato. E questi sono proprio i tre elementi che noi abbiamo riconosciuto e riscontrato, come anche i nostri, nel creare la fiera. Quindi la voglia di supportare anche una parte più istituzionale, quindi portare in fiera dei contenuti e degli argomenti che possano in qualche modo aiutare il settore della pesca a progredire, quindi a fare anche dei passi avanti. E per fare questo avevamo ovviamente bisogno di un partner autorevole con delle conoscenze e con anche un know-how su questo che potesse appunto andare a completare la nostra attività, se vogliamo, più commerciale. Quindi sicuramente una unione legata proprio alla ricerca di temi e di elementi che possano in qualche modo supportare lo sviluppo del settore come industry. L'attenzione poi, ripeto, al visitatore, che è una cosa che ci accomuna. Siamo stati quest'anno vicini a Fipsas in molti eventi, proprio perché volevamo vedere come si esprime la passione nel momento in cui viene vissuta, quindi all'interno dei campionati, se si tratta di atleti, o negli eventi appunto sul territorio che Fipsas quasi quotidianamente porta avanti. E poi anche la possibilità di interloquire, di parlare con le aziende del settore, quindi quello di portare avanti le criticità in base ai vari periodi. Come diceva giustamente il nostro amministratore delegato, l'anno scorso è stato un anno particolarmente difficile per noi della fiera, ma in generale la fiera è espressione di un settore, quindi è stato un anno difficile per tutto il settore della pesca. E quindi il nostro ottimismo nel cercare comunque di portare avanti un progetto che sia il più possibile completo, proprio per fornire un servizio, oltre che un momento anche di un appuntamento, se vogliamo, più di socialità, è stato proprio anche riconosciuto da Fipsas, che come noi ha veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo e ha cercato di guardare avanti e di progettare insieme a noi una fiera che fosse di nuovo completa e soprattutto ricca di spunti e di elementi per soddisfare il pubblico, che poi è il nostro obiettivo principale. Massimo, facciamo un passo indietro e torniamo di nuovo alle iniziative federali. Una serie di fitti eventi, che cosa si farà quindi in fiera insieme a Fipsas? Ma guarda, mi piace che tu abbia detto facciamo un passo indietro, perché lo faccio volentieri, perché devo continuare anche un discorso che avevo cominciato, perché abbiamo cambiato tante cose e una tra le cose più importanti che abbiamo cambiato, a parte anche il discorso dell'accordo con IEG, dove sicuramente saremo presenti in fiera, non solo noi come federazione, ma anche come TV, è l'accordo che abbiamo firmato con FIOPS e le cose che stiamo facendo con FIOPS, perché certe promozioni e certe attività con FIOPS abbiamo promosso di tutto, dai canali, dai corsi d'acqua, ai corsi ai ragazzini, ai corsi nelle scuole. Francesco, fammelo dire, è stato dappertutto, ma per fortuna, anche questo è un salto di qualità che ha fatto conoscere sempre di più quella che è la federazione, quindi provare ad andare incontro a quelli che sono i pescatori, andando a casa da loro, perché purtroppo, forse esco da quella domanda che mi hai fatto, ma non mi interessa perché devo finire il concetto che sto facendo, perché mi va così, scusami. Dicevo, purtroppo noi stiamo rischiando di diventare come il nostro governo, romani. A Roma c'è una realtà, in tutto il resto del paese ce n'è un'altra. Noi come federazione, e le fiere servono anche a questo, ad andare a toccare il territorio, e non solo le fiere ovviamente, anche le cose che fa periodicamente Francesco, andare a toccare quelle che sono realtà, con le problematiche, le barriere sommerse, piuttosto che la pesca nei porti, piuttosto che tutta una serie di cose che non le ricordo neanche perché ne ha fatte veramente tante, però sono quelle cose che ci portano a casa dei pescatori. Il pescatore deve venire da noi quando c'è la fiera, perché a Roma non viene, giustamente non viene, non saprebbe neanche trovarci, ma viene a trovarci in fiera per vedere di poter parlare col Presidente, di parlare con quelli che sono i campioni, con quelli che sono le punte di diamante del nostro sport in funzione della fiera in cui andiamo. Adesso parliamo della fiera di Vicenza, quindi parliamo dei pescatori. Però, ribadisco, secondo me è importante anche il fatto di, come federazione, attraverso queste cose che stavo dicendo appunto, Codice Blu, Forme d'Acqua, Avanti Insieme, dove parliamo di pesca a 360 gradi, non è solo mettere su un bigatino, legare un amo o mettere su un galleggiante, ma parliamo della pesca dal punto di vista politico, dal punto di vista umano, tutto, cioè parliamo della pesca a 360 gradi, questo per me è un fatto molto importante. Tornando a quello che mi hai chiesto tu, le iniziative in fiera, ti ripeto, la cosa più importante è che la novità di quest'anno e sicuramente ce la faremo, poi Valentina mi darà una grossa mano in questa perché ne ho già rotto le scatole, ci siamo già sentiti diverse volte, perché stiamo cercando di portare appunto quel progetto di Maria Teresa Costanzo che è un progetto molto bello, che è un progetto che spero riusciremo a far vedere, ci ha creato qualche problema perché servono degli spazi, servono degli spazi bui e quella è diciamo la punta di diamante quest'anno per quella che è la fiera, ma porteremo tutto quello che è stato portato gli altri anni è meglio perché per fortuna facciamo della vita vissuta esperienza e quindi quello che non siamo riusciti a fare per colpa nostra, per colpa di quello che è successo, perché ripeto 2019, 20 e 21 ci hanno insegnato cose che non ce le aspettavamo però ci avrebbero dovuto far crescere e quindi quelli che sono stati errori che sicuramente abbiamo fatto e qualcuno ci ha anche contestato nell'ambito fieristico piuttosto che in questa fiera che andremo a fare adesso tra ormai un mese, che ormai stiamo arrivando e vediamo di migliorare quelle cose che già erano per noi peculiarità, di far sì che siano ancora meglio insomma, poi come diceva Francesco prima e anche Valentina e anche Corrado perché soprattutto stiamo dicendo le stesse cose e ci stiamo lavorando perché purtroppo il momento non è dei migliori quindi riuscire a avere un sì piuttosto che un forse o staremo a vedere in questo momento è veramente difficile, stiamo spingendo tutti dalla stessa parte e speriamo che quella parte lì sia non il 100% perché non ci arriveremo, ne sono convinto ma è normale che sia così perché se ottenessimo il 100% ci avremmo già messo in croce, avremmo fatto alla fine di uno tanto più famoso di noi quindi arriviamo al 70-80 che ci accontentiamo però vediamo di portare avanti. Quindi insomma un grande spazio, un'ampia area dedicata a Fipsas per accogliere visitatori, iniziative e eventi. Guarda lo spazio è veramente grande, quando Valentina mi ha mandato alla pianta dello spazio che andiamo a occupare ho detto di cosa ci mettiamo? Però ti posso garantire che lo riempiamo, quindi non è un problema. Al di là del fatto che siete una bella squadra che si presenta anche molto bene, tra l'altro in uniformi molto chiari e visibili, ma poi quello che colpisce è il sorriso, nel senso che è una federazione che si è tolta la polvere del passato e sorride, quindi vedo che entrare nello stand, sempre grande, perché è sempre sempre grande, va detto, entrare nel senso della federazione non significa andare a trovare dei vecchi, vecchi, vecchi personaggi che forse hanno dimenticato anche il senso della pesca, ma trovare tanta gioventù, tanta energia, tanti sorrisi e tanta voglia di costruire. Questa voglia di costruire, e ora parliamo di un altro argomento, salto un attimo di pali in frasca, ma mi interessa la conoscenza di Francesco Roscelli, l'avvocato Francesco Roscelli, perché abbiamo parlato di disegni di legge, disegni di legge che qualcuno è arrivato all'ultimo sprint finale e si è fermato, qualcuno è rimasto nel cassetto, faccio riferimento ad esempio a quello della pesca in mare che io avevo avuto modo di leggere perché me lo inviassi, che era veramente, veramente importante, altamente innovativo in tutti i suoi aspetti, è cambiato il governo, è cambiata la legislatura, ce n'è una nuova, ci sono nuovi soggetti, ci saranno nuove commissioni, che fine fanno questi progetti, questi disegni? Come dicevo prima, l'obiettivo è quello di partire da un reset delle questioni affrontate nella scorsa legislatura, proprio in fiera il 18, 19 e 20 di novembre, per poi iniziare a pianificare il lavoro politico istituzionale da svolgere in questa legislatura. Siamo in una fase nella quale il governo si sta insediando, con esso le commissioni parlamentari, quindi i presidenti, i vicepresidenti di commissioni e a partire dalla fine dell'anno 2022, dopo l'approvazione prioritaria, perché l'attenzione, siamo chiari insomma, del Parlamento per i prossimi 60 giorni, fino al 31 di dicembre sarà quella dell'approvazione della legge di bilancio 2023, ma a partire da gennaio potremo dedicare l'attenzione che merita anche ai nostri disegni di legge. E qui dobbiamo innanzitutto capire se da parte del governo c'è la disponibilità, ci sarà la disponibilità ad affrontare quelle questioni su quelle materie e con quelle risposte a livello governativo oppure sarà necessario farlo a livello parlamentare. Nel primo caso potrebbe essere un ministro o un sottosegretario di competenza a proporre, faccio un esempio, un decreto all'interno del quale inserire i contenuti del disegno di legge. Pesca nelle acque interne, quindi superare il regio decreto oppure pesca in mare riprendendo i contenuti del disegno di legge di cui parlavi tu, che erano stati sostanzialmente elaborati da un gruppo di lavoro del quale peraltro anche tu facevi parte insieme a tanti altri di noi, il Presidente, varie figure trasversali anche per competenze. Ecco, se da parte del governo dovessimo riscontrare che non c'è questa disponibilità, allora possiamo lavorare a depositare dei disegni di legge che magari aggiornati in alcune loro parti, non limitati o ridimensionati, aggiornati perché è normale che qualche cosa possa essere da cambiare e provvederemo a riproporli. A tal proposito è necessario già dagli appuntamenti della Fiera invitare alcuni esponenti politici sia della maggioranza che dell'opposizione, perché il nostro compito è quello di lavorare affinché poi nella discussione in Commissione e parlamentare, se ci sarà o comunque nel voto su un decreto, qualora dovesse essere presentato dal governo, ci sia la massima condivisione possibile. Si riporrà un tema inevitabilmente che è quello dell'annoso, soprattutto sulla pesca in mare, confronto, molto spesso scontro con il mondo della pesca professionale, perché parliamoci chiaro, i ritardi che abbiamo avuto anche nella discussione parlamentare sono in larga parte dovuti a alcuni freni che sono stati tirati proprio dal mondo della pesca professionale, che non volevano sul tema del bracconaggio o sul tema della pesca in mare che si arrivasse a delle rivoluzioni anche di concetto e normative. Noi crediamo però che attraverso il confronto sia possibile provare a superare queste difficoltà, infatti, ho concluso, purtroppo il governo è caduto e non siamo riusciti quel disegno di legge ad approvarlo in maniera definitiva, ma era stato concordato in maniera definitiva. Quindi se ripartiamo da lì, partiamo da un buon punto di partenza e forse iniziando a lavorare dai primi mesi della legislatura, questa potrebbe essere la legislatura buona per arrivare a quei risultati da troppo anni attesi. Eh già, speriamo sia così, veramente. Valentina, la promozione della fiera, ne vogliamo parlare? Sì, 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 molto volentieri. Riprendo quello che ha già anticipato il nostro amministratore delegato, Vera Boni. Abbiamo voluto ringraziare tutti i visitatori dello scorso anno con un biglietto gratuito, quindi tutti coloro che hanno partecipato nell'edizione 2021 di Pescare Show saranno i benvenuti appunto con un biglietto gratuito, una promozione a loro dedicata. Ovviamente abbiamo una promozione dedicata anche a Fipsas e quindi a tutti i tesserati di Fipsas e a chiunque acquisterà il biglietto tramite i canali della federazione. Abbiamo inoltre altre promozioni attive, altri canali che insomma coinvolgono tutti i nostri partner. La fiera ovviamente vuole rappresentare il più possibile il mondo della pesca e per fare questo quindi ci affidiamo anche ad altri partner che ci aiutano magari in determinate aree appunto di attività e anche la Regione Veneto che per noi è importante, sarà presente quest'anno di nuovo anche in fiera. Inoltre Italian Fishing TV è da sempre media partner, soprattutto negli ultimi due anni hanno fatto un gran lavoro di Pescare Show e quindi andranno in onda a brevissimo delle pillole di in onda con Pescare Show, questo progetto televisivo fatto appunto in partnership con Italian Fishing TV già l'anno scorso e quindi a breve vedrete anche proprio delle puntate, delle pillole che abbiamo creato insieme dove siamo andati proprio a incontrare i pescatori durante alcuni degli eventi Fipsas in Italia quest'estate e quest'autunno, quindi sarà un po' l'occasione per rivedersi in tv e per continuare a parlare appunto dei temi importanti per Fipsas, importanti per tutto il settore e ovviamente importanti anche per noi di Italian Exhibition Group. Quindi le modalità per acquistare il biglietto sono veramente tantissime, abbiamo ovviamente tenuto un prezzo del biglietto molto accessibile proprio per cercare di venire un incontro alla nostra community di appassionati in un momento comunque che continua ad essere difficile, quindi ci teniamo veramente che venire in fiera possa essere un momento di festa e di condivisione e non magari vissuto in maniera diversa. Quindi vi invito ad acquistare già il vostro biglietto anche perché la fiera è ormai alle porte, siamo vicini e a seguirci anche sul sito di pescareshow.it dove troverete tutte le informazioni e tutti i canali appunto di acquisto. Grazie, grazie. Io volevo chiedere a Massimo nei vari video, nei due video che abbiamo sentito, ma quanti campionati del mondo hanno dato la Fipsas per il 2023? Guarda, per il 2023 infatti stavo arrivando anche a questo perché era l'ultima cosa che mancava. Se non ricordo male a livello di pesca ne abbiamo quattro, però potrei ricordarmi male, perché devono essere quattro attività internazionali, tre mondiali e un europeo, però ti ripeto ho un'età che potrei ricordare male, ma indicativamente quello è, quindi sicuramente in fiera noi andremo a portare, come diceva Francesco prima, un convegno sul braconaggio perché non bisogna abbassare la guardia nei confronti di personaggi e non voglio mettergli una targa, perché ce ne sono tanti che hanno la targa mia, quindi non solo le targhe straniere, quindi non abbassare la guardia sul braconaggio e quindi ne parleremo ancora con chi di queste cose ne capisce, se ne intende, soprattutto è sul campo tutto il giorno. Parleremo appunto di autotoni, allotoni con le varie proposte di legge che Francesco prima anticipava per vedere di far sì appunto che il nuovo governo possa entrare in un argomento già cominciato e non ricominciare tutto a capo perché altrimenti non ne veniamo più fuori, presenteremo tutte quelle che sono le attività appunto a livello internazionale che la federazione andrà a organizzare nel 2023, avremo tante attività rivolte ai giovani, ai ragazzini attraverso appunto i personaggi, i nostri istruttori federali, io faccio un nome su tutti perché è quel personaggio che noi in federazione abbiamo come riferimento che è Francesca Cavallucci, poi c'è tutto l'indotto di Bruno Dotto piuttosto che Angelo De Pascalis e via di lì, quindi saremo presenti in forze perché in quelle tre fiere che mi anticipavo all'inizio dove andiamo la federazione sposta Roma alla fiera quindi siamo non dico tutti lì ma quasi, quindi mi associo a quello che ha detto Valentina, a quello che ha detto Corrado, veniteci a trovare, se avete qualcosa da chiederci chiedetecelo perché forse insieme qualcosa riusciamo a tirar fuori. Grazie, io credo siamo arrivati ai saluti, lasciatemi fare una considerazione perché la pesca italiana è viva, la pesca italiana è forte perché siamo comunque sempre due milioni, due milioni un po' sparpagliati forse ma sicuramente anche grazie a questa sinergia che si è venuta a creare, che si sta consolidando tra la federazione, l'Italian Exhibition Group, il sistema fioristico quindi, si cercherà ancora una volta di rafforzare, e non voglio dimenticare la FIOPS, quindi la parte delle industrie produttrici, una sinergia che serve ad alzare la voce nei modi dovuti chiaramente con le amministrazioni che ancora sono restie, con la politica che ancora restia ad ascoltare quella specie di grande urlo di dolore che tutti noi emettiamo quando vediamo lo scempio delle nostre acque, le leggi delle decisioni sbagliate, all'octone e autoctone in un esempio lampante, quando vediamo che nulla si fa contro gli scarichi, poco si fa contro le centraline, nulla si fa contro i cormorani che sono i problemi vivi e soprattutto molto si fa a volte per ostacolare la pesca sportiva e lì il lavoro del Francesco Ruscelli, la FIOPS e la federazione per cercare di agevolare la pesca sportiva nei porti ad esempio, ricordiamoci che non tutti siamo abili, non tutti siamo in grado di andare in un torrente o in un fiume, c'è gente che magari in un porto può espletare il proprio hobby nel più felice dei modi perché ha degli impedimenti e la politica questo lo deve capire, soltanto attraverso questo tipo di sinergie siamo in grado facendo massa comune di esprimere un'idea che venga apprezzata e capita, bisogna essere fiduciosi, questo è un ulteriore esperimento tentativo ma sicuramente quello vincente per cui cerchiamo di partecipare ed essere presenti attivi come diceva Massimo Rossi, interloquire con le persone, esprimere pareri perché la pesca sportiva siamo tutti quanti noi, siamo una grande comunità, una grande confraternita che si ritrova una volta all'anno alla Fiera di Vicenza, con questo vi saluto, saluto i nostri ospiti, saluto la splendida Cassiopea e ci vediamo al prossimo appuntamento di Codice Blu, ciao! Arrivederci a tutti! Grazie a tutti!